Difficile quantificare il valore di mercato, ma sicuramente altissimo il valore affettivo della rifurtiva recuperata dai carabinieri della compagnia di Gardone-Valtrompia, coadiuvati da quelli della stazione di Gussago nella cantina di Via Torricella, dove risultava domiciliato un valtromplino 35enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I militari hanno recuperato, avvolta in un tappeto, la palla d'altare rubata nella chiesa di San Michele di Ome, olio su tela del 1600, raffigurante la Madonna con Gesù, San Michele e San Francesco, vari oggetti sacri rubati sia ad Ome nella chiesetta, curata con tanta dedizione dagli alpini della locale sezione, sia nella chiesa di Santa Maria del Giogo di Polaveno. La prima giustificazione che ha fornito ai militari è che si trattava di beni che gli erano stati donati da una zia defunta circa un anno e mezzo prima. L'uomo accusato di ricettazione è stato arrestato, ma è già stato scarcerato e non è per ora ritenuto il responsabile del furto, anche perché le indagini non sono ancora terminate. La pala verrà riposta dietro l'altare maggiore nella chiesa di Ome la sera del venerdì santo in concomitanza con la via Crucis. Non è disprezzo verso, anche se poi lo viviamo come comunità, come disprezzo, loro vivono solo in funzione proprio del tornaconto.